Un comune, una pubblica amministrazione è qualcosa di più di un utente, di un esercente di servizi digitali, ne è un vero e proprio editore, diciamo meglio un impresario che organizza le forme, i linguaggi, i modelli di collegamento, le interconnessioni tra cittadini e comune e soprattutto tra i cittadini tra di loro, lì dove proprio nello scambio di dati e di contenuti si produce un valore che è quello dei sapevi, delle competenze, i cittadini non sono solo portatori di problemi, sono innanzitutto promotori di soluzioni, è una risorsa che le grandi piattaforme che profilano i propri utenti hanno ben imparato, mentre i comuni fanno ancora fatica a ottimizzare e a utilizzare, questa è la nuova frontiera che si pone anche con i sistemi di intelligenza artificiale che supporteranno le attività delle comunità territoriali e tra questi temi uno dei principali che si sta imponendo è proprio l'organizzazione di un piano regolatore delle intelligenze, delle memorie che ogni comune deve organizzare e sulla cui base deve stipulare nuovi patti sociali con i propri cittadini, come negli anni Sessanta rispetto alla speculazione immobiliare, così rispetto ai grandi proprietari degli algoritmi, i comuni devono essere intermediari, soggetti di negoziazione in grado di riprogrammare queste potenze di calcolo e metterle appunto al servizio dei cittadini e non solo di un'arida speculazione commerciale pubblicitaria, è una partita che rende il comune centrale oggi come vero e proprio organizzatore di intelligenze diffuse sul territorio.